Jetscape Jetscape è una mostra con il patricinio di Umbria Jazz in cui in cinque amici abbiamo cercato di rappresentare dei punti di vista diversi rispetto al mondo del jazz. Ci interessa perché le persone che ruotano intorno a questo mondo sono delle persone brillanti, molto vivaci e molto allegre. Ognuno di noi ha cercato di dare un'interpretazione diversa. Si va dalle situazioni di allegria, gli scherzi fra artisti e il backstage vero e proprio dalle fotografie che inquadrano particolari simbolici che raccontano e se stesse la scena generale la Berkeley, quindi la scuola per i giovani musicisti le personalità diverse degli strumenti quasi umanizzati ed atmosfere particolari di concentrazione prima e dopo la performance dell'artista. Il gruppo fotografico ambulante nasce ormai da qualche anno ed è fortemente interessato alla fotografia sicuramente ma soprattutto alle unioni che si svolgono nei migliori ristoranti dell'Umbria perché il desiderio altrettanto importante come quello fotografico è anche quello di vivere una vita che sia piena di sabori e di piaceri. di piaceri, esatto.